Carissimi amici e carissime amiche, bentrovati, benvenuti sul canale. Per il caso di Diana Resinovic c'è da chiedersi qual è il confine fra la verità e la falsità? Chi è che è deputato a stabilire la verità o la falsità di certe cose? Senz'altro sono giudizi di ordine soggettivo, no? Però c'è anche un altro elemento da tenere in considerazione. Cioè che l'opinione pubblica è manovrata spesso o in buona fede o in cattiva fede dalla ripetitività di certe affermazioni. Per cui queste affermazioni, anche che non sono vere, diventano la realtà. È un po' come avviene con i bambini, no? Prendete un bambino abbastanza piccolo, gli ripetete un concetto strano, assurdo, diciamo che l'asino vola. Se a questo bambino piccolo glielo ripetete costantemente, vedrete che la sua psiche comincia a consolidare l'idea che effettivamente l'asino possa volare. Ecco perché, diciamo, a volte gli interrogatori a dei bambini vengono fatti con l'ausilio di psicologi, professionisti preparati, perché sono molto suggestionabili. Una cosa del genere, diciamo, avviene anche con l'opinione pubblica perché un fatto, alcuni fatti ripetuti costantemente, anche se falsi, diventano una realtà. E quindi le falsità ripetute diventano verità consolidate. Ora, nel nostro caso ce ne sono tante, ma purtroppo siamo davanti a qualcosa per cui non ci si può fare più niente. delle assurdità così forti, così eclatanti, che però sono diventate delle verità. Ad esempio, una falsità notevole è che questa famosa cantinola, il garage, la soffitta, che erano dei luoghi oggettivamente polverosi, senza servizi igienici, senza luce, senza acqua. Questa è la verità. Erano questi cosiddetti buchi, quello che lui chiamò buchi-buchi, per cui è ragionevole pensare che non potessero servire ad alcun tipo di incontro e tantomeno alcun tipo di incontro romantico. sarebbe stata un'offesa incredibile proposte a qualsiasi donna di avere un incontro in questi tuguri, che erano così. Erano almeno così, non so, adesso. Allora, evidentemente, invece, la verità qual è? Che nell'ottica, appunto, della verità, essi esistevano perché potevano servire, erano nella disponibilità, come deposito per mettere qualcosa, per togliere, per ritirare, ma certamente non erano luoghi per appuntamenti galanti. Ecco. E invece passa per una verità. Falsità è senz'altro l'esistenza di questa storia d'amore che non trova alcun tipo di giustificazione. si diceva nata casualmente al cimitero. Si diceva una storia d'amore nata casualmente da un incontro fortuito al cimitero avvenuto nell'agosto 2021. È passata questa cosa qui. E invece, poi si è scoperto che un anno prima erano stati verbalizzati perché stavano seduti nel furgoncino al cimitero che era il loro centro di smistamento. Quindi, un'altra falsità che diventa realtà. Realtà. Come pure, non parliamo della telefonata, vabbè, non vogliamo dire se stessero la telefonata è le 8.22, la WIND. non è vero, non è vero, non è provato da nulla, le dipendenti della WIND non hanno mai visto nessuno, nemmeno lo stesso Sterpini, ma si dice che lei alle 8.22 avesse telefonato per la WIND. Non è vero niente. Come pure, quindi, questa storia d'amore in generale, date che non era conosciuta da nessuno, non era saputa, nessuno le aveva mai viste, ne incontrate, nessuno aveva mai saputo niente, è impensabile che questa falsità, ripetuta da tempo e condivisa dagli amici e dagli amici, possa essere diventato un luogo comune. Ecco, questa purtroppo è la verità. È la verità che purtroppo si scontra contro il muro di gomma della asuefazione, dico io. Ma altre cose sono falsi in maniera eclatante, come il fatto che questa donna avesse la volontà di separarsi dal marito. Perché c'è quel luogo comune in cui si dice si voleva separarsi perché lei aveva fatto ricerche su come ci si separava senza avvocato. E allora, dobbiamo ripetere per l'ennesima volta, aveva fatto due ricerche simili in sei mesi per cui non sono ricerche di tipo significativo. Perché se noi andassimo a vedere nei nostri computer le ricerche fatte negli ultimi sei mesi, magari avremmo fatto delle ricerche strane, ma non perché abbiamo quelle intenzioni. Quindi, è falsa la volontà di separazione perché non si è concretizzata e non era una ricerca fatta se non in modo del tutto estemporaneo. Falsa era la volontà che si dice lei cercava casa o per sistemare il marito o per andare a vivere con lo serpino. Falsa perché non dimostrata da nulla, anzi, dimostrato il contrario perché fattualmente lei andava nelle agenzie e si confidava questo sì con qualche conoscente che cercava casa con garage per sistemare quindi anche la macchina per cambiare zona. Aveva anche fatto per la prima volta l'ISEE che era propedeutico cioè serviva per accedere a un contributo regionale dell'acquisto della prima casa. Quindi, falsità il fatto che lei cercasse casa o per sistemare il marito o per andare a vivere con serpino che poi lui aveva già la casa. Ora, che altro possiamo dire? Falso però è anche tanto che dice Sebastiano perché indubbiamente è falso che la vita di coppia dei Sinovici e Vicentin fosse al miele perché non è possibile. Allora, il fatto che non si voglia dire alcune problematiche fa dire che la vita di coppia è sempre stata vissuta senza un problema senza un litigio senza una nuvola. Anche questo è fattualmente non vero. Come è falso è anche che non frequentassi i Casinò il fatto di dire erano vent'anni che Liliana non andava al Casinò falso anche questo perché posso assicurare che l'ha confidato a me personalmente che erano più di trent'anni che essi andavano al Casinò spesso anche nelle saune certamente annessi al Casinò ma anche al Casinò ma è un'abitudine che lui non perde che ci va tuttora lo può confermare ad esempio Fulvio Rovalero che ha avuto modo di accompagnarlo più volte e anche di meravigliarsi della sua grande disponibilità di denaro quindi il fatto dei Casinò in sé non è un male in sé però dire sostenere che non ci siamo andati se non una volta così è semplicemente falso e però viene passato per luogo comune come falso sicuramente è che Sebastiano non sapesse di una sosta di vita parallela che Liliana condivideva per interessi diciamo così per una forma di interessi con Serpin interessi che lui riteneva pericolosi certamente li riteneva pericolosi al punto che quell'alibi non credo sia casuale l'alibi che lui si è costruito con la consegna dei cortelli e con la GoPro che ha un po' certificato diciamo così il suo percorso non è casuale perché egli sapeva benissimo anche se non era implicato direttamente cosa e quali pericoli corrisse la moglie quindi tante falsità ne vorrei dire un altro è non credibile anche falso il fatto che tutti quanti si sorprendano che quel 5 di gennaio questo corpo venga restituito ma allora ci siamo dimenticati della fibrillazione dei giorni precedenti ci siamo dimenticati che il 3 4 gennaio il 3 gennaio la riunione dello Serpin col Salvo con Gabriella che bisognava andare a cercare in quella zona dove è stato ritrovato il corpo e che lo Serpin il 5 sta in questura per questo per dire questo è lo stesso Sebastiano che addirittura in quel giorno anche lui va in questura a denunciare che la notte ha ricevuto uno squillo anonimo ma io non credo perché ci va proprio quel giorno io non credo che lui non avesse mai ricevuto squilli anonimi e quindi non è che ogni volta che nei giorni o nelle settimane precedenti se aveva ricevuto uno squillo anonimo andava in questura poi stranamente aveva fatto telefonare diciamo dall'amico dal disulio aveva fatto telefonare a questo ragazzo della Sicilia eccetera eccetera ora è come se sapessero quindi si passano indubbiamente tutte queste falsità qual è il risultato di questi luoghi comuni per cui che ce li ripetiamo e ce li cantiamo giorno per giorno mese per mese anno per anno che queste falsità diventano talmente comuni che diventano come una cantilena per cui si consolida la cosiddetta verità conveniente ecco quando ci sono delle contrapposizioni si va a maturare una cosiddetta verità conveniente su cui convergere perché alla fine si deve pur trovare una soluzione no? a questa a questa storia non è che si può andare avanti con questa diatriba per 3, 4, 5, 6, 10 anni no? perché anche la procura a un certo punto già voleva chiudere adesso c'è stato un approvo che il GIP dai notti con tanta buona volontà fosse beh ma certamente se non a dicembre ma a gennaio si deve chiudere e quindi le parti vanno in una sorta di verità conveniente cioè la verità conveniente è quella del suicidio anche se nessuno lo vorrà mai ammettere ma la verità conveniente è questa è questa che che ne ne dica anche la dottoressa Cattaneo che può più o meno dire l'epoca della morte però il problema qual è? è che si sta assistendo negli ultimi mesi al fatto che questa cosiddetta storia d'amore pur non essendo mai esistita pur non vera viene in qualche modo fatta proprio dallo stesso Sebastiano perché Sebastiano è una persona che ha una furbizia superiore alla media nonostante che abbia l'apparenza un po' così di confusionario perché che cosa si va a dire non potendo nessuno di loro sposare la 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 causa economica diciamo i debiti il rischio il gioco qualcosa di movente legato al denaro nel momento economico perché perché ognuno di essi va a avere paura di ciò a perdere chissà dove si arriva allora si arriva al punto invece che Serpin dice noi dovevamo andare a vivere insieme eravamo d'accordo all'amore della mia vita ma poi essendo che è sparita io ho detto ho fatto quei messaggi aspetto un segnale aspetto sempre un segnale qualsiasi esso sia perché avevo la recondita idea sospetto che forse chissà come mai in ultimo ci avesse ripensato e allora si accude il Sebastiano si accude anche lui dicendo ma quello è un mitomano quello così ma forse si è illuso sì forse in buona fede Liliano gli ha fatto capire certe cose che lui ha capito in un certo modo ma poi in ultimo in ultimo Liliano gli avrà detto no ma quale weekend ma quale cosa io non posso lasciare Sebastiano no tu sei l'amore della mia vita dobbiamo andare insieme no non vengo ecco l'imbuto emotivo e si va a suicidare ora che si sia suicidato i 14 e che poi bisogna vedere chi è che la teneva al fresco ma non importa oppure magari sia stata 20 giorni chissà dove a sfogliare la mascherita mamma non mamma lo lascio non lo lascio mamma non mamma lo lascio non lo lascio mamma non mamma lo lascio o non lo lascio dopodiché ecco non sapendosi decidere va proprio lì sempre lì al boschetto perché forse era il suo habitat preferito e si va a suicidare ora la dottoressa Cattaneo potrà dire certe cose potrà arrivare anche a dire che il corpo era stato chissà da chi messo al fresco oppure dire no effettivamente la morte risale al 4-5 3-4-5 di gennaio potrà dire che le chimo si avvolte sono cause di violenza sono dei colpi ma non servirà alla fine perché ovviamente la dottoressa Cattaneo non è che fa miracoli si basa sugli elementi che c'ha ormai la stessa esumazione del cadavere per quanto possa avvenire non è che troveranno molto per cui si arriverà a dire pure che si è morta il 3-4 di gennaio si e si è suicidata è andata lì dai chimosi perché lei prima ha sbattuto la testa di qua e di là negli alberi per farsi dell'autolesionismo quando proprio non ce la faceva più di questo sanguinamento si è messa due sacchetti in testa si è infilata negli altri due sacchi e si è lasciata morire lì purtroppo bisogna bisogna tornare a quello che disse la dottoressa Chirgia bisogna dare ragione a questo mondo di dire a noi non interessa se è morta il 14 o se è morta il 4-5 di gennaio la donna si è suicidata quindi è solo questa la conclusione di dire tutti vissero felici e pavidi paurosi perché purtroppo si parte da alcuni assunti non veri partendo dalla storia d'amore in poi con tutti con tutti gli episodi collegati che passano per essere veri se voi andate a chiedere a una persona normale di fare un riassunto della della vicenda Resinovic vi racconteranno per grandi linee che questa donna e voleva lasciare il marito perché ci aveva l'amante e voleva andare da lui che lo telefonò che andava più tardi perché doveva passare dalla guinda tutti fatti senza riscontro e che poi chissà qualcuno ha fatto del male si sospetta del marito e poi chissà che cosa è successo infatti non vedi non vedi nessuno vi verrà a dire lei probabilmente in quel periodo storico 2020-2021 si era cacciata nei guai economici che svolgeva una vita parallela una con il marito un'altra con Serpino ma certamente non d'amore ma di interessi in qualche modo e che bisognava scavare in quella direzione nessuno ve lo vedrà a dire quindi è un cane che si muove della coda un suicidio che che sconfessa sia Serpino sia Sebastiano un suicidio che condanna entrambi questo è la cosa se vuol dire si smolta forse comico di tutto ciò perché uno dice amava solo me nient'altro che me e allora talmente che ti amava che si è suicidato l'altro dice amava me soltanto soltanto me da oltre 30 anni e il riscontro qual è? si va a suicidare e quindi vedete purtroppo la verità sta altrove ma noi dobbiamo continuare a raccontarci queste falsità che vengono foraggiate quotidianamente da un luogo comune da una pletora di opinionisti giornali vari articoli trasmissioni pure che devono alimentare il gossip fino al punto quando fino a che magari la procura confermerà il suicidio una volta che si sarà scriviato il caso allora si guideranno le acque e saremo contenti tutti specie l'amico l'amico salvo che finalmente potrà dire andiamo veramente adesso tutti al mare grazie amici miei condividete il video dappertutto grazie voglio bene grazie sempre del grandioso affetto che mi manifestate quotidianamente un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti